cari telespettatori una puntata molto interessante perché riguarda un tema di cui tutti parlano di questa sera possiamo davvero grazie al lavoro svolto dal professor nadotti che lo vedete il professor loris nadotti non ci sarebbe bisogno di presentarlo però diciamo una cosa sola che è professore ordinario di economia degli intermediari finanziari all'università di perugia ovviamente presso il dipartimento di economia è un argomento dove tutti parlano che è l'educazione finanziaria il professore oggi però ci regala una chicca che tra l'altro la vorrei sottolineare perché è uscita anche sulla stampa nazionale su repubblica mi diceva prima il professore e di che si tratta così ce lo spiega direttamente lui si tratta di un'indagine statistica sulle conoscenze e le scelte finanziarie dei nostri studenti cioè gli studenti dei corsi di economia del primo e del terzo anno questa rilevazione l'abbiamo fatta esattamente un anno fa e adesso la ripeteremo proprio in questi giorni la ripeteremo quest'anno oltretutto la amplieremo perché non solo intervisteremo studenti dei corsi di economia ma anche studenti di altri corsi che cosa qual era l'obiettivo di questa rilevazione era quella di andare a verificare appunto le conoscenze finanziarie dei nostri studenti quelli del primo anno quindi i ragazzi appena arrivati ai corsi di economia e quelli del terzo anno anche un po' per fare un check una verifica di quelli che sono gli accrescimenti che riescono a conseguire in due anni di corso gli studenti in questo campo. Oltretutto questo tipo di indagine è stata costruita in modo tale da poter confrontare i dati ottenuti con una analoga indagine che la Banca d'Italia fa tutta la popolazione nazionale tant'è vero che abbiamo potuto fare dei confronti abbastanza interessanti di cui adesso spero di potervi dare così qualche... Ecco ricordiamo intanto che tutto questo lavoro è stato svolto da lei, mi dica se sbaglio, da Davide di Stedda e Manuela Gallo. Siamo un gruppo di lavoro che è formato oltre che da me dalla professoressa Manuela Gallo che è professoressa associata di economia degli intermediari finanziari e dal professor David Aristei che è un professore associato di statistica economica del nostro dipartimento. Ovviamente siamo coautori alla pari di questa ricerca che è una ricerca che è stata somministrata, ha previsto la somministrazione di questionari cartacei e la cosa non è di poco conto visto che ultimamente la maggior parte delle indagini viene fatta attraverso la rete, attraverso... Invece in questo caso sono stati fatti questionari cartacei anche perché questo ha evitato che ci fosse la possibilità di andare a verificare in diretta le risposte esatte, cercando magari su internet quale potessero essere risposte esatte. Invece qui era veramente un questionario fatto in maniera che le risposte fossero più che affidabili, quindi 35 domande sia risposta aperta che risposta chiusa che hanno riguardato 532 studenti iscritti al primo anno di cui 347 iscritti al primo anno e 185 iscritti al terzo anno. Mi scusi professore, quando lei dice i nostri studenti parliamo degli studenti del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia. Le domande riguardavano in particolare la verifica della conoscenza oggettiva di concetti finanziari di base. Che cosa si intende per concetti finanziari di base? Potere d'acquisto, costo di un prestito, tasso di interesse semplice, tasso di interesse composto, la relazione che esiste tra rischio e rendimento negli investimenti, gli effetti dell'inflazione e il tema della diversificazione del rischio. In più c'erano anche altre tre domande che riguardavano il calcolo degli interessi pagati su mutuo, tema di grande attualità visto l'aumento dei tassi di interesse, visto quello che sta succedendo recentemente, che ci preoccupano un poco. E in più si chiedeva agli studenti di leggere dei grafici dove venivano illustrato l'andamento di rendimenti di ipotetici investimenti. Gli studenti potevano ovviamente rispondere alle domande oppure scrivere non so, se non si ritenevano in condizione di poter rispondere. In più abbiamo chiesto a questi studenti anche quella che viene definita la conoscenza soggettiva in campo finanziario, cioè come gli studenti stessi si ritenessero informati, quindi un'autovalutazione delle proprie conoscenze finanziarie in una scala da 1 a 10, cioè 1 molto basse, 10 conoscenze molto alte. I risultati sono stati, devo dire, molto interessanti. Perché? Perché intanto... Ovviamente lei mentre parla, professore, inseriamo le varie slide, insomma, relazioni. Sì, c'è appunto la prima slide che riguarda le risposte che abbiamo ottenuto alle domande di conoscenza finanziaria. E queste ci dimostrano che l'83% dei nostri studenti conosce e risponde correttamente alle domande sul potere di acquisto, sul costo di un prestito, lo stesso, anche qui la percentuale di risposte esatta è molto alta, 87-97. Il 72% sa calcolare un interesse semplice, mentre invece ci sono problemi nel calcolo dell'interesse composto, cioè degli interessi che vengono calcolati su un investimento che dura più anni e che rende un tasso di interesse che via via viene calcolato, oltre che sul capitale, anche sugli interessi che si formano di anno in anno. Gli studenti dimostrano di conoscere abbastanza bene la relazione tra rischi e rendimenti degli investimenti e in più dimostrano anche il saper leggere abbastanza bene i grafici. Qualche difficoltà ce l'hanno, appunto, quando, e l'abbiamo osservato, quando si passa dall'applicazione di concetti di carattere generale a, diciamo, al calcolo vero e proprio. Oltretutto, siccome nella nostra ricerca abbiamo anche tenuto in considerazione alcune variabili socio-economiche, cioè abbiamo chiesto agli studenti da quali famiglie provenissero, cioè se avevano genitori di nazionalità italiana oppure se avevano almeno un genitore di nazionalità straniera. Gli abbiamo chiesto qual era la classe di reddito che attribuivano alla loro famiglia, quindi abbiamo potuto anche fare queste verifiche in relazione alla loro famiglia di origine e di provenienza. In ogni caso, le risposte che abbiamo ottenuto dai nostri studenti sono risposte mediamente, diciamo, più esatte di quelle che dà il campione nazionale. Cioè la ricerca della Banca d'Italia, per esempio, ci dice che il concetto di potere d'acquisto, cioè gli effetti dell'inflazione, in un campione di diplomati da 18 a 29 anni prevede risposte esatte al 53%, i nostri hanno risposto all'83%, quindi vuol dire che l'appartenenza ai corsi di economia, la frequenza dei corsi di economia serve, funziona. L'interesse è semplice, i nostri studenti rispondono in maniera esatta al 72%. Più o meno se la battono lì, diciamo. Se la battono, mentre invece i non frequentanti corsi di economia rispondono al 70%. L'interesse è composto, i nostri danno risposte esatte al 42%, mentre gli altri al 23%. Nella definizione dell'inflazione sono decisamente superiori. Insomma, c'è una differenza in positivo nei nostri studenti. E guai se non fosse così, perché potremmo anche cambiare mestiere. La cosa che abbiamo osservato, anche questo è un fenomeno abbastanza noto, ma negli studenti di economia, così è abbastanza più eclatante, è purtroppo la differenza di genere, le differenze tra uomini e donne. Cioè la percentuale di risposte corrette a tutti i quesiti, e in particolare ai quesiti che riguardano calcolo di tipo matematico, come l'interesse composto, tra le donne, vede le donne in una posizione nettamente di svantaggio rispetto agli uomini. Cioè quindi le risposte... In tutte le voci. Sì, in tutte le voci. In alcune questa differenza, come si può notare anche da un grafico, la differenza è ampia, è notevole. La cosa che poi ci ha sorpreso, questo non è rappresentato in un grafico, è intanto la percentuale di risposte non so che tra le donne è molto maggiore, anche qui, e il fatto che le studentesse, le ragazze, siano mediamente, come si dice in termini che è tecnico, underconfident, cioè sottovalutano le loro risposte, le loro conoscenze finanziarie. Cioè, quando si danno un giudizio, quando si autovalutano, le ragazze dichiarano di essere poco competenti, di avere poche conoscenze. Poi però, se si va a confrontare il dato tra l'autovalutazione, quindi la valutazione soggettiva, e le risposte che le ragazze danno, si nota che molte di quelle che si ritengono poco competenti rispondono in maniera corretta. Quindi anche questo è un formato abbastanza interessante, anche perché ha dei risvolti concreti, cioè tutto quello che noi studiamo sul tema dell'educazione finanziaria riguarda le scelte che facciamo come risparmiatori, e che in prospettiva richiederanno in futuro conoscenze sempre maggiori in campo finanziario. Basti pensare a cosa si prospetta, soprattutto per i giovani, per quello che riguarda la cosiddetta previdenza integrativa. Cioè sappiamo perfettamente che le pensioni che ci derivano, che deriveranno, sperando che ce le paghino, nel sistema regga in qualche maniera, che apparteniamo alla generazione dei boomers, saranno un futuro notevolmente inferiori per chi comincia a lavorare adesso, perché col sistema contributivo la pensione sarà parametrata unicamente alla quantità dei contributi versati, che significa che per garantirsi una vecchiaia serena, quelli che oggi sono i nostri studenti dovranno immediatamente pensare a dei piani pensionistici individuali integrativi e fare un piano pensionistico oppure accantonare dei risparmi in previsione di ciò che accadrà in futuro richiede un minimo di competenza finanziaria. Questo in generale ha maggior ragione da parte di chi studia economia. E' anche per questo che si va, e la Banca d'Italia, c'è stato un intervento durante il convegno da parte dell'esponente della Banca d'Italia che è venuto a trovarci, c'erano i rappresentanti della Banca d'Italia, della filiale regionale di Perugia, c'era la direttrice, dottoressa Sartini e l'accento durante questo convegno è stato posto proprio su questo, cioè educare l'educazione finanziaria nella popolazione è un tema fondamentale proprio perché investe, intanto le scelte di investimento, riguarda le scelte di investimento immediate. Fenomeni come quelli delle criptovalute che soprattutto tra i giovani stanno prendendo piede, sono fenomeni terribilmente preoccupati, anzi la Banca d'Italia desidera che non si chiamino neppure criptovalute, ma giustamente le chiama criptoasset, la differenza non è di poco conto perché non sono valute, non sono monete, ma sono degli investimenti in qualcosa che è assolutamente inconsistente e teorico. Non ne abbiamo parlato qualche volta. Qualche volta ne abbiamo parlato. E soprattutto gli investimenti in questi criptoasset denunciano un atteggiamento che peraltro abbiamo riscontrato tra gli studenti che è un atteggiamento orientato a scelte di breve periodo, di breve termine. Certo. Anche questo è un problema. Mentre invece per poter pianificare correttamente la propria gestione finanziaria non si può puntare a giorno per giorno, ma bisogna fare scelte che guardano al futuro, cioè futuro non domani, ma 5, 6, 10, 20 anni. Se parliamo di previdenza integrativa, chi comincia a lavorare deve pensare a quello che accadrà dopo 40 anni quando andrà in pensione. E questo non è un discorso. Oltretutto, questo è un tema che mi è caro, la studioso di materie finanziarie, questo tipo di scelte si riflettono sul cosiddetto processo di allocazione delle risorse finanziarie. Cioè le scelte che noi facciamo come singoli risparmiatori nel momento in cui decidiamo se tenere i soldi sul conto corrente, comprare un titolo di Stato, o investire in azioni o comprare delle quote di partecipazione in fondo comune di investimento, orientano i flussi di risorse nell'economia. Se finanzio il debito pubblico, sto facendo una scelta in termini di sicurezza, di rendimento, se faccio scelte più rischiose, ma dirette, per esempio, all'acquisto di azioni di fondi comuni di investimento, partecipo al finanziamento delle attività produttive. Questo richiede un minimo di consapevolezza, non solo per quello che riguarda il calcolo dei rendimenti, dei guadagni attesi, ma anche proprio come partecipazione alla vita economica di un sistema, di un sistema paese. Per esempio, noi prendiamo come riferimento sempre i sistemi di tipo anglosassone, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, e l'ha il peso della previdenza integrativa o è zero o è molto basso. La previdenza, cioè quindi la pensione, ognuno se la fa da solo, sottoscrive dei fondi pensione e sceglie i fondi pensione in base a come vengono gestiti, alle performance. E questo significa che in quei paesi, per esempio le banche, hanno un ruolo molto minore nel processo di allocazione delle risorse finanziarie, perché le risorse le allocano i fondi. Cioè i soldi, invece di andare nel conto corrente, invece di andare all'Inps, come vanno da noi, vanno ai fondi pensione che poi compran azioni, obbligazioni, che finanziano l'impianto. E finanziano il sistema. Il nostro sistema, penso uno dei più bancocentrici, da questo punto di vista. Il nostro sistema finanziario assolutamente è uno dei sistemi dove gli intermediari hanno il peso maggiore in positivo e in negativo. Questo non possiamo sottacerlo, nel senso che non tutte le imprese hanno accesso ai mercati. Cioè l'alternativa agli intermediari sono i mercati. È chiaro che le imprese di dimensioni, come da noi, sono in numero molto elevato, nei mercati ci stanno poco, proprio perché le piccole dimensioni non si confanno alle micro-imprese, non possono andare a finanziarsi emettendo azioni, emettendo obbligazioni o propri titoli. Ci stanno come riferimento la banca. È necessario ovviamente trovare anche qui delle linee di sviluppo del sistema finanziario e queste linee di sviluppo del sistema finanziario che siano le più armoniche possibili, possibili cioè banche ma anche mercati, previdenza, un minimo di previdenza obbligatoria è assolutamente indispensabile ma è anche indispensabile che ci sia una previdenza integrativa perché ripeto per il futuro le cose sono tutt'altro che certe in questo campo e quindi già da 20-30 anni ci si è orientati in questa direzione probabilmente anche qui il discorso dovrebbe essere teso a agevolare fiscalmente la previdenza integrativa. È un po' stato fatto, io per esempio ricordo che aderì alla previdenza integrativa perché comunque c'era un'agevolazione fiscale insomma interessante. Anche adesso fino a 5200 euro è possibile portare un po' alzati perché in deduzione 5200 euro all'anno sono in deduzione integrale dal reddito disponibile. Probabilmente anche qui occorrerebbe soprattutto laddove il risparmio è minore trovare delle forme di incentivazione ma queste forme di incentivazione funzionano se c'è conoscenza se c'è educazione finanziaria da parte dei destinatari finali di queste misure per questo per questo noi insistiamo sul tema dell'educazione finanziaria i nostri studenti sono dimostrati molto sensibili molto attenti a questo tema l'altro giorno quando abbiamo presentato questa ricerca erano numerosi in aula ad ascoltare quello che stavamo dicendo c'è una sensibilità un'attenzione crescente gli studenti si dimostrano abbastanza attenti da questo punto di vista noi stiamo lavorando per fare quello che viene fatto anche all'estero confronto internazionale non l'ho citato ma l'Italia purtroppo nel confronto internazionale sul livello di educazione finanziaria misurato come vi ho fatto vedere prima vi raccontavo prima è molto indietro rispetto agli altri paesi europei dietro di noi ci sono solo la Grecia la Bulgaria la Romania se non ricordo male ecco ma tutti gli altri paesi stanno avanti stanno avanti la nostra indagine nasce appunto dall'esigenza di verificare quello che è il livello di conoscenza in generale della popolazione e questo lo fa all'indagine della Banca d'Italia di cui appunto dicevo anche prima e in particolare nei nostri studenti perché in una fase come quella attuale cioè caratterizzata da un livello altissimo di incertezza a causa di eventi extra posso dire extra economici ma che influiscono grandissimo fortemente sul sul clima e sulle decisioni è importante che ciascuno di noi prenda delle decisioni consapevoli che si basano sulla capacità di leggere le informazioni disponibili e questo fatto noi cerchiamo di verificarlo di analizzarlo soprattutto puntando a dei test su quelle che sono la capacità di lettura e di elaborazione dei dati infatti le risposte dei nostri studenti ci dicono i nostri studenti i concetti in linea teorica li conoscono e li sanno distinguere hanno qualche difficoltà in più nell'applicare questi concetti nell'applicare poi nel saper calcolare l'interesse del posto e la cosifia per esempio esatto questo l'abbiamo detto prima io ho visto alcune cose che mi hanno incuriosito lei in parte ne ha parlato ma voglio dire noi abbiamo fatto vedere alcune slide ma la ricerca è corposa quindi è fatta in tanti aspetti ho visto che ci sono anche ovviamente delle correlazioni dirette cioè coloro che hanno le percentuali migliori derivano da famiglie a maggior reddito e anche da famiglie dove uno o due o entrambi i genitori sono laureati c'è una correlazione però non era così forte come me la potessi aspettare da quello che ho visto anche per voi è stata un po' una sorpresa che la correlazione diretta c'è ma non è diciamo così clamorosa è sicuramente una correlazione positiva cioè chi viene da nuclei familiari caratterizzati da un livello di reddito maggiore da un livello di istruzione maggiore da parte dei genitori è sicuramente diciamo più informato e più attento a determinate tematiche però c'è anche un altro dato che non so se lei ha avuto modo di notare che riguarda gli studenti che hanno almeno un genitore immigrato cioè in seconda generazione ebbene qui riguarda il tema della propensione al rischio questi ragazzi cioè che hanno i genitori che provengono da stati stranieri hanno una propensione al rischio maggiore e collima con ricerche fatte recentemente sul tasso di imprenditorialità da parte degli immigrati che è notevolmente maggiore di quello dei cittadini italiani mi sembra una cosa me la sarei aspettata perché ovviamente intanto hanno meno patrimonio da difendere ma casomai da costruire quindi è chiaro che quando devi spingi rischi di più insomma ma questo è un bene per un paese assolutamente vorrei dire degli spettatori l'immigrazione comporta tanti problemi ma se ben gestita è sangue nuovo è l'emissione in circolo di nuove energie che magari noi che difendiamo il patrimonio che hanno acquisito magari i genitori i nonni e così via si sono un po' subite diciamo la verità io ne sono convinto anche perché appunto questa che poi è stata documentata con la rilevazione questo orientamento degli italiani di seconda generazione è un orientamento positivo anche perché evidentemente sono persone che hanno come posso dire un'attitudine al rischio economico che è il fondamento dell'attività imprenditoriale e questo è sicuramente un bene anche per quello che riguarda infatti guardi glielo confermo perché collaborando io con la Camera di Commercio abbiamo fatto proprio ho voluto dare uno sguardo dai dati infocamere mentre abbiamo per dire le imprese giovanili che sono in calo e anche le imprese femminili meno insomma diciamo però quelle che crescono forte sono le imprese gestite da stanchieri anche perché lo vediamo questi sono i dati sull'occupazione queste persone trovano occupazione o in ambiti di attività che richiedono una scarsa specializzazione i mestieri che si dice gli italiani non fanno più oppure si orientano a fare impresa si orientano a mettersi in proprio ora bisognerebbe anche lì andare a vedere un po' più in dettaglio quali settori se settori più alta tecnologia ancora credo che non siamo arrivati a quello stadio però ci siamo vicini e se però questo orientamento è presente nei ragazzi che frequentano l'università quindi è l'idea che non faranno un'impresa di costruzioni ma faranno qualcos'altro di più importante in termini di contenuti di tecnologia e di innovazione insomma veramente un'indagine ricchissima spero con questa trasmissione di aver dato almeno una curiosità questa indagine almeno le slide professore pubblica la possono trovare i telespettatori oppure devono accontentarsi quelle che noi adesso siamo riusciti a inserire le slide che abbiamo proiettato le abbiamo messi a disposizione degli studenti ma se volete le possiamo mettere a disposizione anche quelle che sono state utilizzate dal rappresentante della Banca d'Italia dall'ottor Vassallo sono divulgabili perché ce li ha messi a disposizione magari ci fate sapere i canali attraverso quali possiamo divulgarli lo facciamo volentieri noi magari guardi possiamo anche creare noi su su youtube magari può diffondere il link che facendo come dire mettendo una dietro l'altra viene una cosa pradevole carina insomma le posso fornire senza problemi lei le vostre le va a fornire casomai quelle del dottor Vassallo lo metto tutte insieme e così facciamo un servizio in più degli spettatori che volessero anche perché questa è stata sono i risultati della prima ma adesso parte il lavoro per la seconda no? la seconda indagine proprio in questi giorni stiamo facendo la rilevazione di quest'anno e quest'anno il campione sarà ancora più ampio perché consulteremo non solo gli studenti dei corsi di economia del dipartimento di economia ma sono già d'accordo con i direttori dei dipartimenti di scienza della formazione e di ingegneria per fare un test anche con i loro studenti e sarà interessante vedere le differenze anche qui in termini di conoscenze finanziarie quindi sì in più credo che i colleghi coautori di questa indagine cioè Davide Aristei che è uno statistico Emanuele Gallo che invece è del mio stesso settore disciplinare sui dati del 2022 cioè quelli che stiamo commentando scriveremo un articolo adesso vediamo probabilmente sarà un articolo in inglese che pubblicheremo su qualche rivista anche perché ci sono tanti studi nelle slide che le ho mandato ci sono anche alcuni riferimenti bibliografici di altri studi che nel mondo sono stati condotti anche il confronto Italia estero non è tanto confortante perché siamo siamo un po' indietro ma questo era diciamo prevedibile prevedibile insomma in qualche modo già si sapeva adesso tanto noi adesso dobbiamo solo guardare avanti perché se ci mettiamo a vedere agli ultimi venti anni insomma diventa solo un piagnisteo ma è andata così cerchiamo di lo dico perché anche per portare una nota positiva l'anno scorso abbiamo fatto la rilevazione tra studenti del primo e del terzo anno la differenza è notevole quindi vuol dire che la frequenza in positivo per gli studi del terzo anno cioè due anni di corso cambiano notevolmente le cose e le conoscenze e le competenze ma guai se non fosse così perché il nostro lavoro sarebbe inutile allora bene siamo arrivati al termine della puntata come avete visto molto interessante è un tema cruciale uno delle leve è vero dello sviluppo del ruolo anche dell'università come grande agenzia formativa del paese e che però riverbera tutto questo anche in una leva più generale proprio della crescita complessiva delle conoscenze di tutti poi che le università ne danno più avanti ma insomma l'acqua deve salire per tutti in qualche maniera le barche tutte devono galleggiare ecco ci lasciamo poi con questa promessa intanto grazie ovviamente a professor Loris Nadotti che ci ha presentato molto ovviamente ordinario all'università di Perugia presso il dipartimento di economia proprio sempre economia degli intermediari finanziari questo sia l'ambito di cui si interessa quindi e ringraziamo indirettamente anche la Banca d'Italia che tramite il professor Nadotti perché ci farà avere questi anche questi ulteriori slides e noi ci impegniamo a realizzarne diciamo così una diffusione attraverso YouTube preparando magari metteremo una musichetta sotto per non fare mezz'ora che è una bassa in alto però è una corsettina carina che per cui tutti coloro che desiderano vedere le slides di questa ricerca anche fatta con grafici quindi anche molto leggibile in maniera molto leggibile ecco potranno poi diffonderemo il link per cui potranno tramite quel link poterla vedere bene professore grazie mille grazie ancora arrivederci grazie mille Grazie a tutti.